Guardare il restauro della piscina Scandone e del Palabarbuto, sognando il Mario Argento. L'evento universiade ha avuto di sicuro il merito di mettere in moto il circuito finanziario che ha consentito l'avvio dei cantieri per ammodernare gli impianti sportivi di Napoli e della Campania, vecchi ed obsoleti. Ma è stato difficile, durante un sopralluogo di verifica dell'avanzamento dei lavori, non chiedere al presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, e cioè colui che tiene i cordoni della borsa, se i napoletani dovranno abituarsi a vedere al posto dello storico Palabargento i ruderi delle due vecchie gradinate lì da ormai vent'anni. Ci volevano due regioni Campania, un attimo di pazienza, poi arriviamo a Palabargento, non è che abbiamo la Banca d'America e l'Italia qui. Un passo alla volta, adesso dobbiamo fare la corsa per essere pronti il 3 luglio ad avere un evento di grande bellezza, di grande qualità, che dia dignità a Napoli, alla Campania e all'Italia, perché voglio ricordare che è un evento di carattere internazionale. Accompagnato dall'ex campionessa olimpico di sci, Manuela Di Centa, oggi coordinatrice dei rapporti istituzionali nell'ambito dell'universiade, De Luca si è recato questa mattina di persona ai cantieri della piscina Scandone del Palabarbuto, nel quartiere Fuorigrotta, quasi pronti per l'inaugurazione dell'evento di inizio luglio. Siamo convinti, siamo convinti che ce la facciamo. Io ho visto il ritmo di lavoro che hanno, siamo stati qualche giorno fa a verificare anche la struttura amministrativa, ci sono, credo, 300 ragazze e ragazzi, volontari. È evidente che questo è un lavoro che fai non in termini burocratici, ma se c'è anche un elemento di passione, di coinvolgimento e devo dire che veramente stanno facendo un lavoro eccezionale. E di essermi inserita in questa squadra molto grande, molto dinamica, ma soprattutto che ha veramente nel cuore la voglia di riuscirci, certo, c'è sempre fatica, c'è sempre tanto da fare.